Ecco il contenuto della scatola e ora vi mostrerò molto velocemente nel dettaglio che cosa troverete Per partecipare a questo giveaway vi basterà lasciare un impappino Il giveaway durerà da domenica 31 a domenica 31 marzo è Pasqua Oggi domani lo sto raggiuntando il giorno prima ma mi sto troppo delungando No allora tagliamo Il giveaway durerà da domenica non ridere dai Il giveaway durerà Ciao alla prossima